Ciao Fragolini e ciao Fragoline! Allora, nuovo video. Dato che nel mese di gennaio non ho pubblicato i video di Grattevinci, perché non sono riuscita a comprarli, questo mese di febbraio e marzo ne ho comprati almeno 10 Grattevinci per fare 3 video, cioè 2 video li vedete a febbraio e per il momento un video lo vedete a marzo. Ovviamente ho già fatto qualche spoiler su Instagram, per cui ho già messo la storia e vi ho fatto vedere quale Grattevinci ho comprato. Non vi dico se ho vinto, ma io lo so già, perché prima di fare il video, ovviamente guardo se ho vinto. Per cui, in questo video giochiamo a questi Grattevinci, che è le monetine fortunate. Non è che sia tanto bello come Grattevinci, ma dato che sono andata in un negozio cinese, cioè sono andata in un bar cinese, allora ho detto proviamo a vedere se vinco lì qualcosa. Per cui ne ho presi 5 di questi Grattevinci e ho speso 5 euro. Vediamo se sono fortunata o se sono sfigata. Ovviamente vediamo se portano fortune cinesi. Prima di iniziare questo video però vi ricordo di iscrivervi al canale, attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video. Lasciarmi un like se vi piace questa tipologia e un commentino qua sotto. Ah, e mi raccomando Instagram, seguitemi anche lì, che lì vedete lo spoiler dei Grattevinci, cioè quelli che ho praticamente comprato. Iniziamo e se non volete perdere anche gli altri episodi e gli altri video che usciranno a breve questo mese di febbraio e a marzo, iscrivetevi al canale, così non ve ne perdete neanche uno. Detto questo, iniziamo! Allora, proviamo a grattare questo e poi gli altri le grattiamo per ultimo. Per cui andiamo per così, spero che lo vedete bene. Io sono in una posizione un po' male, però è l'unica posizione che posso, diciamo, registrare i video. Allora, vediamo il premio intanto. Il premio è di 10 euro. Dobbiamo sommare praticamente tutti i numeri che abbiamo e deve risultare un bel 100. Vediamo se riusciamo a ricavare un bel 100. Allora, qui abbiamo un 50. Qui abbiamo un 5. Qui abbiamo un altro 5. Qui un 20. E qua un altro 5. Invece qua altri 5. Abbiamo fatto 90, per cui non abbiamo vinto i 10 euro. Scusate, ma sono un po' scomoda. Per cui è un po' difficile a grattare. Per cui questo è già perdente. Iniziamo bene. Proviamo a vedere la fila di questi. Allora, qua abbiamo un 100, per cui sarà difficile. 5. 20. Sono già 25. Altri 5. 50. 50. 10. E 5. Per cui abbiamo 70, 80, 90, 5. Anche questo è perdente. Per cui possiamo strapparlo via. Ok. Sennò mi danno fastidio. Poi, andiamo avanti. Qui abbiamo un 50 euro. Scusate se vado veloce, ma dato che sono tanti grattivinci, non voglio che il video dura troppo. Per cui, massimo 10 minuti di video. Qua abbiamo un 20. Mamma mia, è scomodissimo grattare così. Qua un 5. Un 20. Un 5. Un altro 20. E qua altro 20. Allora, 60, 80, 90. Sempre 90. Per cui anche questi. Per 20. Gli ultimi due grattivinci. Premium. Qua abbiamo un 3 euro. Vediamo se faccio un colore zoom, lo vedete meglio. Allora, qui abbiamo un 10. Qua un 20. Siamo già a 30. 40. Allora, abbiamo un 50. Abbiamo un altro 10. E un 5. Per cui, 70, 80, 90 e 105. Abbiamo vinto 3 euro. Niente male. Cioè, meglio vincere che perdere. Diciamo. Allora, questo è quello vincente. Controllate bene, ma sono 100. Invece, vediamo questo. Qui abbiamo un altro 3 euro. Vediamo se siamo fortunati anche con questo. Qui c'è 20. 20. E siamo già 40. 10. Sono 55. Altro 5. E altri 20. Per cui, sono 50, 70 e niente 80. Per cui, questo è perdente. L'unico vincente è questo qua. Dei gratte e i vinci. Beh, direi che questo mese di febbraio ci porta fortuna. E specialmente, credo che i cinesi portano fortuna. Perché abbiamo vinto 3 euro. Non sono tanti, ma meglio recuperare. Così almeno riesco ad andare avanti a fare i video di gratte e vinci. Che non recuperare niente. Per cui, abbiamo vinto 3 euro in un solo gratte e vinci. A confronto di altri 4. Che queste 4 sono perdenti. Io mi diverto a fare i video. In più, mi diverto a giocare con voi. E se voi vi divertite e vi piace guardare questi video, ovviamente, mi raccomando, lasciatemi un like e un commentino qua sotto. Che ne faccio tanti altri di gratte e vinci. E scopriremo più avanti se vinceremo qualcos'altro. Detto questo, il video finisce qua. Spero che vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Vi aspetto e vi aspetto anche su Instagram. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!